Prova della Homebrew per Sega Master System Space Mare Imperium Derelict Non sono riuscito proprio a giocare però da quello che ho capito è una versione che non è ancora completa non è ancora finita la programmazione e quindi questo potrebbe essere il motivo per cui io non sono proprio riuscito a giocare bene è un gioco in 3D sulla sinistra vediamo il gioco e a destra c'è un menu di azioni che si possono compiere è chiaro, questo è un videogioco lento se voi cercate un arcade questa tipologia di gioco non vi piacerà però a me è sembrato un progetto interessante vediamo come viene lo sviluppo in descrizione trovate il link dove c'è una pagina in cui poter scaricare questo gioco e ci sono anche delle spiegazioni e poi questo progetto è disponibile anche per altri sistemi per esempio PC, Amiga 1002 e Mega Drive dai, vediamo vediamo se esce una versione più rifinita oppure se questa è già la finale se questa è la versione definitiva vuol dire che io devo imparare a giocare vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento ad un altro video su qualche nuovo progetto per Sega Master System ho Grazie a tutti